Ciao Luisa! Lei è mia figlia Valentina. Piacere Valentina. Ciao Valentina, piacere Luisa. Ok, vorrei giocare? Ciao ciao! Comunque mia figlia ama la scuola. Anche a mia figlia piace la scuola. Mamma domani non voglio andare a scuola, ok? Voglio divertirmi! Mia figlia poi è una bambina educatissima. Anche mia figlia è educata. Mamma, perché non si rompe questo coso? Valentina, cosa stai facendo Valentina? Poi neanche la sento. È così tranquilla mia figlia. Perché Valentina è tranquilla? Mamma, mi hai visto come sono in alto? Guardami senza mani, guardami. Oh mamma mia, che peste. Come non detto. Mamma, devo fare la pipì? La faccio qui? La sto facendo addosso. Valentina, Valentina!